come mai l'officina non passa mai il tempo non c'è mai l'orario per andare a mangiare come mai su lancetta ce la puoi fare su su sali su dai 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 lancetta dai ce la puoi fare dai non ce la fa e gonfia e gonfia la lancetta mio cane vado a fare ma che roba è via andiamo a mangiare dai ciao ciao